Sono Emma Steine e Giovanni Calabrese, i due nuovi assessori della giunta regionale nominati dal presidente Occhiuto. Sulla base delle proposte avanzate dei partiti della coalizione di centrodestra, che sostiene il mio governo regionale, ha dichiarato il presidente, ho deciso i nomi dei due nuovi assessori che faranno parte della giunta. Steine e Calabrese, rispettivamente di Lega e Fratelli d'Italia, subentrano a Tilde Minasi e Fausto Orsomarso, eletti in Parlamento nelle elezioni politiche del 25 settembre. Ringrazio gli assessori Minasi e Orsomarso, aggiunge Occhiuto, per il prezioso lavoro svolto in quest'anno. Giovanni Calabrese è il sindaco di Locri, mentre Emma Steine e Cosentina è un avvocato, già candidata per la Lega alle elezioni politiche del 2018 e alle europee del 2019. Arrivano anche le congratulazioni del ministro Salvini per la scelta ricaduta sulla Steine, che secondo il ministro sarà all'altezza della sfida.